ciao ragazzi sono sempre io il vostro volpiacchiotto adesso andiamo a scuola scuola caramai adesso benvenuto a scuola grazie allora vediamo che ha bisogno già questo qua che rompe allora in cima il pennone dovrebbe essere qualcosa a cui fare il saluto e allora crea un oggetto bandiera pirata pernata e 1 andiamo avanti c'è qualcun altro qua si che vuoi da voglio incontrare qualcuno che sta facendo carriera uno geometra scienziato ok te che vuoi voglio far ridere costume da clown costume va bene niente niente Naro rosso Naro Niente Ehm, vuoi faridare No vieno Ehm Divertente scrivo io Divertente Ehm, pagliaccio Sapevo io diventare pagliaccio L'armadio Per me non è sicuro uscire da questo armadio con il bulio in giro Non fargli del male Timido Beh, esci Per me non è sicuro uscire da questo armadio con il bulio in giro Non fargli del male Ah 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 infunerabile ok così mi muore adesso chi è? tu che vuoi? proteggere le pelle avversarie scu... ah no andiamo qua no lo scudo scudo grazie grazie poi che vuoi te? metti qualcosa nella mia pentola per il pranzo dei studenti ok mettiamo pollo ah no canne avvelenata 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 da andiamo 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 beh ruba beh ecco cacchio questo è brutto fallo beh beh e che scatole ah 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 ti ho rubato consegno raccoglio e consegna questa guava tu ti metti dentro niente non fa un cazzo ma ci pensano poi tre che c'è che vuoi te questo parlo giochi fa schifo bisogno di attrazioni più interessanti allora auto scontro auto scontro auto scontro niente niente sopra il tetto c'è qualcosa sopra il tetto non c'è niente questo affare questo è fatto c'è questo qua questa qua che cacchia vuole e lì me lo so vai qui che vuoi te metti qualcosa nella mia pentola ah pentola vabbè scalzavo allora pollo avvelenato 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 magna magna che buona è morto ahahah ahahahahah ahahahahah vediamo questo allora allora è il giorno dell'annuale concorcio scientifico da scuola aiuta lo studente a vincere creando una forma di vita comunicando vabbè dammi qualcosa per cambiare la mia ameba